Ciao! Video sui più utilizzati per quanto riguarda il make up di gennaio e come sempre parto dalla base e come base ho utilizzato la BB cream della Benecos che devo dire mi sta piacendo molto perché non è semplice da stendere nel senso che con le mani è la stesura migliore che ha con il pennello si stende bene però a volte fa delle striature perché comunque quando la stendete almeno su di me la sensazione è che è abbastanza pesante poi però una volta che viene stesa bene, cioè mi spiego meglio la consistenza del prodotto sembra abbastanza pesante quindi quando la stendete con il pennello non sembra mai uniforme poi una volta che comunque viene stesa è leggerissima non si sente sul viso e non è coprente diciamo che è una coprenza medio-bassa però per quello che piace a me va benissimo la cosa che non sopporta è la profumazione perché è troppo forte però una volta stesa la profumazione non si sente l'altro che ho utilizzato che amo tantissimo ma che purtroppo adesso devo mettere da parte è il fondotinta di pupa il like a doll questo è il fondotinta quello liquido che ha il contagocce e non utilizzate mai questo per farlo uscire perché almeno il mio se io pigio qui fa e esce praticamente il mondo dal contagocce e più di una volta mi sono dovuta cambiare dopo aver usato questo qui perché mi cade dappertutto però è fantastico perché ha la consistenza è liquido però quando poi l'ho andata a stendere sul viso sembra quasi polvere lo preferisco anche questo con le mani perché è l'applicazione migliore almeno sul viso il risultato migliore me l'ho steso con le mani l'ho utilizzato per diverso tempo solo nei fine settimana perché avevo paura che mi facesse uscire comunque qualche brufolo perché ora qui non c'è l'inci ma penso sia sulla scatola che ho buttato e effettivamente è stato così ora lo devo mettere da parte e mi dispiace tantissimo perché il risultato che mi dava sul viso era veramente bello ma mi ha fatto uscire tanti brufoli ma proprio tanti quindi l'ho messo da parte ma a malincuore veramente perché il risultato l'effetto proprio sul viso è bello di pelle liscia, vellutata, uniforme non ha una coprenza anche questo medio-bassa però uniforma veramente bene l'incarnato è così leggero che non lo sentite sul viso ora magari più avanti proverò a riutilizzarlo ma per adesso lo metto da parte come cipria, vabbè, sempre lei la cipria della Benecos che sta finendo come correttori oltre a quelli che ho finito ho terminato ho utilizzato il Match Perfection di Rimmel che mi piace come correttore però non amo particolarmente l'applicatore fatto così non lo so perché non mi piace particolarmente e sopra vado a utilizzare perché prima essendo quello poi trucco gli occhi e poi sopra vado a utilizzare il Fit Me di Maybelline perché è più... sicuramente ho sbagliato a prendere la colorazione ma è più chiaro ora se sapessi che numero... ah, ok, è il 20 è troppo chiaro per le mie occhiaie perché io le ho abbastanza scure questo, diciamo, va un pochino ad illuminare il Fit Me resiste veramente tutto il giorno si fissa, non mi dà particolari problemi quindi per il momento mi piace poi, come blush principalmente ne ho utilizzati 3, 4 e ho utilizzato questo di Benecos che è il Mellow Rose io l'ho preso a fine novembre e non so se notate quanto è già utilizzato cioè mi piace tantissimo perché dà veramente quell'effetto sano sul viso eccolo qui è un blush economico perché comunque costa sui 3,90 4 euro penso e ha veramente una buona durata resiste tutta la giornata almeno su di me non mi dà particolari... cioè non... è molto scrivente eccolo è molto scrivente quindi mi piace tanto poi l'altro che ho utilizzato è il blush di Catrice il numero 080 Sun Rose Avenue che è questo qui eccolo qui questo invece è un colore molto naturale diciamo un pescato che io non ho capito perché ogni volta che lo stendo sulla mano non si vede ma questo blush scrive ve lo posso assicurare eccolo qui è un blush molto naturale su rosa diciamo pesca e anche questo ha veramente una buona durata considerato anche il prezzo che ha trovo che sia un ottimo blush e l'altro che ho utilizzato è il numero 03 della Kiko della Daringame Rosewood e Azalea che è questo qui e io principalmente ho utilizzato la parte questa qui più sul mattone è un mattone con anche del malva all'interno veramente molto bello anche questo è un bel colore eccolo qui però siccome sta utilizzando il Mello Rose che è più spento di questo però al momento insomma ho utilizzato quello poi ho utilizzato anche questo Baked Blush di Elf che purtroppo non so che numero sia qui c'è scritto D33 che è questo qui ma principalmente l'ho utilizzato come illuminante perché su di me diciamo si vede molto molto poco è questo qui ora ho notato che non ha nemmeno una grandissima scrivenza con il pennello perché gli altri che vi ho fatto vedere per esempio quello di Kiko con le dita scrive molto meno rispetto a a prelevato con il pennello quindi questo non scrive molto nemmeno prelevato con il pennello almeno su di me e l'ho utilizzato principalmente come illuminante poi come terra sempre Harmony di MAC sempre lui poi passando agli occhi come primer sto continuando ad utilizzare quello di Debbie che adesso non ce l'ho portata di mano quindi non ve lo faccio vedere aspettate che metto un po' a posto ok poi per quanto riguarda le palettes ho utilizzato sicuramente la Africa di Paula P che mi è stata regalata per Natale io la trovo fantastica beh innanzitutto nemmeno a dirlo mi sono innamorata di Fata Morgana perché è veramente bello cioè ho semplicemente passato il dito e questo è quello che mi è rimasto poi un altro colore che mi piace molto è questo qui che è questo rosa che si chiama Miraggio questo qui e lo mettiamo qui eccolo qui però devo dire che sono veramente tutti molto belli è vero la palette è un pochino polverosa però per la scrivenza degli ombretti veramente per la qualità per come si sfumano ci si può tranquillamente passare sopra cioè non so se si vede ma io ce l'ho da Natale e questa è veramente molto utilizzata questo è l'illuminante che sto usando sempre sotto l'arcata sopraccigliare questo qui che si chiama Sara e se non me l'avessero regalata per Natale sarei tranquillamente l'avrei tranquillamente comprata al Cosmoprof perché mi piacciono comunque i colori perché sono colori che utilizzo normalmente tutti i giorni su di me e la qualità di questa palette è veramente ottima poi per quanto riguarda le palettes l'altra che ho utilizzato molto è questa qui di Dior la numero 796 Queer Cannage che è il mio regalo di Natale e i colori sono questi fantastici è una palette nude colori molto scriventi di questa con questa riesco tranquillamente a fare un trucco totalmente con questa non lo so a me piace tantissimo i colori eccoli qui vi swatcho questi due che sicuramente sono quelli che preferisco che sono questo e questo qui e secondo me questo ha del viola all'interno non so se vedete però è veramente bellissima contentissima di averla acquistata poi per quanto riguarda i ombretti mono ho utilizzato sicuramente questo che è un ombretto di moda il numero 309 che è quello che mi ha regalato Cristel ed è questo fantastico colore qui che tra l'altro è quello che ho oggi su tutta la palpebra mobile ed è bellissimo ha una consistenza questi ombretti hanno una consistenza davvero particolare perché sembrano veramente cremosi sono io ho passato anche il dedo sulla salvietta adesso sono veramente scriventi e sono luminosissimi eccoli qui e io questo oggi ce l'ho su tutta la palpebra mobile mi piace tantissimo poi altri due ombretti mono che ho utilizzato sicuramente sono star violet di mac che è questo colore qui ed è questo colore che non lo so descrivere perché secondo me è una via di mezzo tra un rosa un rame però anche del viola è bellissimo e l'altro che ho utilizzato è un ombretto di nabla che è superposition che è questo colore qui ora io ne ho diversi di ombretti nabla è questo qui questo è in assoluto il colore che mi piace di più non solo per il colore ma anche per la scrivenza perché su di me la maggior parte degli ombretti nabla senza una base colorata al di sotto durante la giornata perdono un pochino di intensità non sono diciamo non restano belli intensi fino a fine giornata e tra tutti quelli che ho questo è diciamo il colore che mi sta piacendo di più perché è quello che poi sul mio occhio risulta meglio e questo l'ho abbinato tanto con il color up non glassing eye shadow il numero 10 della daring game che è questo colore qui e con questo sopra è bellissima l'accoppiata eccoli qui questo è il long lasting il numero 10 con sopra superposition e mi piace tantissimo poi altri ombretti mono che ho utilizzato sono due regali di natale uno è questo qui il dying for shoes il numero 33 di sephora questo qui questo è stato un regalo di simona simon loves makeup di natale uno dei suoi regali ed è questo viola bellissimo il colore è questo qui e io non avevo mai dato un soldo di fiducia agli ombretti sephora e non ne ho nemmeno uno questo è fantastico cioè non so se vedete ma io ho passato il dito e non è per niente polveroso è molto pigmentato perché questo è lo swatch e questo è quello che rimane sul dito è veramente bellissimo un viola fantastico poi l'altro è il back and eye shadow velvet matte il numero 10 di wicon questo invece è un regalo di francesca sissi and frenchy ed è questa meraviglia qui io l'ho cercato in lungo in largo questo ombretto perché agatha mi aveva fatto fissare perché mi ha detto che era il mio colore lo utilizzava l'avevo visto nei video di ornella utilizzato insieme a per sfumare la piega insomma di apason quando utilizzava di apason e lo volevo ma non si trovava da nessuna parte francesca l'ha trovato e me l'ha regalato è questo bellissimo colore qui veramente bellissimo che anche questo trovo che non sia per niente polveroso scrive molto bene perché questo è quello che resta sul dito ed è veramente si sfuma benissimo mi piace tantissimo questo ombretto perché riesco ad utilizzarlo sia su tutta la palpebra mobile ma anche nella piega perché si sfuma veramente molto bene non faccio fatica ad utilizzarlo poi sempre come altre basi cremosi che ho utilizzato ho utilizzato questo matitone della Kiko che era della Life in Rio che non se sapessi dove è scrivere il numero 101 e principalmente ho utilizzato la parte questa qui chiara questo beige diciamo eccolo qui ma alcune volte mi è capitato di utilizzare anche questa ma molto molto meno e questo matitone come i matitoni che sono usciti della collezione Daringame lo dovete sfumare subito perché poi si va a fissare e sempre Daringame oltre a quello che vi ho fatto vedere prima ho utilizzato il numero 20 che è questo questo è molto difficile è un viola scuro borgogna diciamolo così ha dei glitter all'interno penso che si vedano però sul mio occhio non mi da problemi io li utilizzo tranquillamente anche all'interno dell'occhio senza nessun tipo di problema non mi brucia non mi irrita niente poi come matite stringiamo perché siamo già a 18 minuti come eyeliner ho utilizzato sempre dove eccolo perché l'ho utilizzato anche oggi il numero 500 di Pupa l'ombretto in crema che utilizzo come eyeliner e l'ho utilizzato anche oggi e come eyeliner mi piace molto molto di più poi come matite sto utilizzando questa qui della Pupa la Smoky Eye Pencil numero 03 che è la marrone che è questa qui perché ora mi sono fissata ad utilizzare le matite queste che ho già più piccole almeno quelle proviamo a finirle e infatti poi ho utilizzato questa qui della Essence la Top Me questa qui la Casual Pencil che però io utilizzo tipo riga di eyeliner ed è questa qui un'altra matita che ho utilizzato è questa della Make Up For Ever l'Acqua Ice 11L penso sia il numero ed è questo viola qui ora questa matita è bellissima il colore mi piace tantissimo però me l'aveva regalata Agatha appena iniziata ad avere problemi con il viola ma su di me diciamo che non non è perfetta cioè tende un pochino a sciogliersi durante la giornata e l'altra matita che ho utilizzato è questa di Sephora che è la nano sono quelle piccole la numero 21 Plum ed è questa qui molto molto bella l'ultima perché mi stavo scordando ma questa l'ho utilizzata anche oggi è questa della Kiko che io odio la confezione sempre della Daringame che è la numero 6 che è questo ma non lo so vabbè dove l'ho messa non la potrete vedere mai che è questo colore qui è una via di mezzo secondo me tra un marrone e un borgogna molto bella però rispetto alle Smoky Pencil delle edizioni limitate secondo me queste non sono come le altre cioè sono meno valide per me delle altre perché sono molto più morbide e ho notato che se lacrimo tendono un pochino a sciogliersi qui alla fine dell'occhio non lo so poi passando alle labbra e andiamo veramente veloci adesso ho utilizzato diverse cose naturalmente questo mese non vedrete Craving perché ho utilizzato di più Plumful che è il rossetto che avevo acquistato a Bologna che è bellissimo è un luster penso si dica così ed è questo qui è molto bello e anche questo ha una durata diciamo sulle 3-4 ore almeno su di me perché ha una consistenza è lucido però si aggrappa molto bene alle labbra e su di me dura veramente tanto quindi un ottimo rossetto poi grazie ad Agatha ho utilizzato questa accoppiata qui cioè il nome è un kit della Hot Punk scusate ma mi pizzica il naso è un kit della Hot Punk della Kiko che è la matita numero 03 e il rossetto numero 03 ora il rossetto in questione è questo qui e vi faccio vedere e eccoli qui belli su di me hanno una buona durata io li ho utilizzati insieme e veramente resistono molto bene ho provato ad utilizzare anche il rossetto da solo e su di me è una durata inferiore rispetto ad utilizzarlo con la matita perché il rossetto è molto cremoso la matita è abbastanza secca quindi probabilmente la durata dipende dalla matita che vado a mettere al di sotto perché essendo così secca si fissa comunque molto bene alle labbra e fa sì che duri di più e da quando Agatha mi ha regalato questo ho riutilizzato il Fireed Up di MAC perché questa matita la utilizzo anche con questo rossetto naturalmente devo idratare molto bene le labbra perché matita secca rossetto secco e adesso ve li faccio vedere vicini e sono questi qui eccoli qui molto belli insieme già il Fireed Up ha una bella durata ecco devo idratare molto molto bene le labbra prima perché altrimenti è un disastro però il colore mi piace molto e un altro rossetto che ho utilizzato è della collezione Paris Experience della Pupa questo qui che è il numero 002 che ho comprato diciamo poco prima di Natale perché l'avevo trovato in offerta in quanto stavano togliendo proprio lo stand della collezione ed è questo qui che tra l'altro è quello che ho su anche oggi mi piace mi piace il colore mi piace come mi sta ultimamente sto sperimentando colori di rossetti diversi dai miei soliti però se ne va un po' in giro o meglio lo devo fissare per forza cioè devo contornare le labbra per forza con una matita trasparente perché su di me tende un po' andare in giro per tutto il viso però come colore mi piace tantissimo e l'altro che ho utilizzato è questo di Wicon che ha anche il colore sul tappino nella collezione non lo so è numero 05 rosa antico questo qui ed è questo bel colore ora è matt ma su di me sono rossetti a lunga tenuta loro dicono ma su di me non ha cioè ha una buona durata ma quando svanisce svanisce a pezzi e io questa cosa non la sopporto però ho utilizzato con sotto questa matita di Essen la numero 06 Satimov che sto finendo come vedete è rimasta proprio piccola piccola mi piace tanto eccoli qui abbinati insieme perché la matita è molto confortevole almeno le matite labbra di Essence che ho io sono molto confortevoli e accoppiata a questo rossetto così che quando va via va via in maniera più uniforme il rossetto perché sotto comunque c'è la matita labbra che è dello stesso colore e di conseguenza mi lascia le labbra comunque pigmentate niente ragazzi mi sembra di avervi fatto vedere tutto oggi ho parlato tantissimo e ci vediamo al prossimo video ciao